Al via domani, 30 giugno, la campagna nazionale stop liste d'attesa di feder consumatori che prevede il monitoraggio dei tempi d'attesa per le visite sanitarie nelle regioni italiane. La campagna nazionale ricalca quella regionale lanciata da feder consumatori Sicilia a fine 2021. Tutti i cittadini siciliani che hanno difficoltà a prenotare una visita medica o stanno riscontrando tempi d'attesa eccessivi possono comunicarlo a feder consumatori Sicilia recandosi in una delle sedi territoriali dell'associazione oppure scrivendo una mail con i dettagli a sicilia-federconsumatorisicilia.it oppure stop liste d'attesa-federconsumatori.it L'anno scorso oltre 4 milioni di italiani, il 7% della popolazione, ha rinunciato alle cure di cui aveva bisogno. Nel 2020 e il 2021, a causa del Covid, il 9,6% e l'11% degli italiani hanno dovuto rimandare cure e visite. Prima del Covid erano 3 milioni e mezzo all'anno, in media gli utenti che rinunciavano alle cure, pari al 6,3% della popolazione. I ritardi nella sanità quindi sono un problema nazionale, con una lunga storia alle spalle che in Sicilia assume forme e dimensioni ancora più preoccupanti. Ed è per questo che Feder Consumatori Sicilia ha lanciato la campagna di monitoraggio per prima per poi inviare il 26 maggio scorso una richiesta ufficiale all'assessorato regionale alla salute per l'attivazione dell'organismo paritetico regionale sulle liste d'attesa. Le liste d'attesa interminabili non nascono con questo governo né col precedente, ma sono l'eredità di una lunga serie di errori e tagli orizzontali ai bilanci della sanità regionale, spiega il presidente di Feder Consumatori Sicilia, Alfio Larosa. Sappiamo bene, aggiunge, che a volte i ritardi nell'erogazione delle prestazioni sono dovuti alla mancanza di un macchinario, a un problema tecnico o altre cause non immediatamente risolvibili. Ma sappiamo anche che molto spesso si tratta anche di cattiva organizzazione del lavoro, dei turni, delle prenotazioni o delle forniture del materiale sanitario. Secondo Feder Consumatori, inoltre, la gestione dei CUP in particolare ha più di un aspetto critico.